ciao cara così restiamo in questo quarto d'ora di ritardo che ci siamo prese benissimo cerco di stringere anzi faccio partire subito il timer così cerco di rimanere nei tempi intanto ciao a tutte ciao a tutti sono molto felice di essere qui e vi leggo nella chattina che ho lasciato qua di fianco per per leggere i vostri commenti assicurati di costruire la cosa giusta prima di costruirla per bene a dirlo non sono io ma è alberto savoia alberto savoia lo dice nel suo libro anzi nel suo prototipo libro prototype it sempre nel suo libro alberto savoia dice che ci sono tre modi per fallire non fare nulla in stile opossum avanti tutta oppure provare se i primi due difficilmente portano a dei risultati con la terza via forse qualcosa possiamo trovare di utile è probabile che vogliamo fare sia la cosa giusta però l'unico modo che abbiamo per capire se funziona è farla farla però non solamente nella nostra testa ma nel mondo reale quindi metterla in in scena no direi sempre più spesso avere dei metodi delle metodologie dei percorsi preconfezionati può sembrare la cosa più ovvia e più semplice da fare per non sbagliare eppure non è sempre così tutto si scala pandemia c'è un lockdown e tutto quello che hai sempre fatto non funziona più quindi non basta spostare online quello che prima abbiamo sempre fatto in presenza insomma ce lo siamo detti tutti e abbiamo anche imparato stato di progettare per ripensare serve cambiare la parola cambiamento è una delle parole più gettonate ma in questo in questo evento l'abbiamo detto in tanti il cambiamento è l'unica costante della nostra vita dicevo tempo fa ed è anche il modo in cui possiamo decidere di voler provare a a cambiare le cose raccogliendo la sfida e accettando l'imparare strada facendo io oggi parlo come come cangi perché siamo è un vi parlo di come abbiamo io e chiara abbiamo riprogettato un servizio strutturato e molto complesso che mette insieme appunto le nostre due due anni e ci siamo date una sfida nel momento in cui non potevamo più incontrare i nostri clienti in presenza ci siamo fatto una domanda una domanda generativa non come ci insegna il design come possiamo trasformare un servizio complesso e strutturato fatto al 90 al 20 per cento in in presenza in un percorso lavorativo che però sia utile se utile per i nostri clienti ma facciamo un passo indietro e diamo un po di contesto se prima appunto i nostri incontri con i clienti online erano l'eccezione e non e non la prassi ora invece sono la normalità in mezzo a mille altri ma il fatto è che guarda noi noi cangi e noi freelance in generale ma riguarda anche i nostri clienti anche loro sono spesso e quasi sempre online e dobbiamo tener conto di questo fattore perché ne ha parlato Fabiana prima il famoso carico cognitivo non è semplicemente nostro è solo nostro ma è anche dei nostri clienti quindi fatica sicuramente nostra che dobbiamo facilitare e moderare un un lavoro un laboratorio con i nostri clienti ma è anche loro che si trovano per essere al di là di uno servo in questa dimensione che è bidimensionale non più tridimensionale dove manca qualcosa e come possiamo fare per fare in modo che per fare in modo che i nostri clienti possano vivere e sperimentare un servizio per cui hanno pagato e ottenere un risultato che loro si aspettano allora c'è anche dire che non facevamo tutto in presenza anche prima della pandemia c'era qualcosa che lascevamo per l'online soprattutto con i clienti più più distanti geograficamente però diciamo che per le situazioni un pochino più complesse dove parliamo di strategia quindi del dover sciogliere nodi e del dover aprire e smontare un problema avevamo bisogno di essere in presenza quando questo era più possibile abbiamo chiesto come poter fare abbiamo riprogettato un servizio grosso e complesso che nella realtà della presenza svolgevamo in quattro sei incontri dal vivo con qualche momento in asincrono via mail o su google drive insomma spostare tutto online ci ha fatto riflettere sul fatto che già nel preventivo avremmo dovuto dire ai nostri clienti il percorso che avremmo fatto senza mettere un limite al numero di incontri e alla insomma al tempo che ci avremmo dedicato è stato un investimento ma è stato anche è stata una scommessa si è stato anche un investimento una scelta perché solo facendo potevamo capire quello che serviva a noi e quello che serviva ai nostri clienti ma perché potesse essere utile perché potessero ottenere dei risultati portare online ciò che abbiamo sempre fatto in presenza appunto è stata una grossa scommessa non importa la pandemia non importa la fatica nostra il cliente paga per quel servizio e deve ottenere qualcosa di significativo risolvere a contare la complessità non spetta loro spetta noi è nostra responsabilità devo dire che con la formazione invece è stato molto più semplice l'ho raccontato anche molto bene luisa carrada nel suo ultimo articolo di cui giorgio trono ha condiviso raccontato e ha raccolto diversi commenti nel nel gruppo di freelance camp se non l'avete visto insomma vi invito ad andare a leggere che cosa abbiamo fatto abbiamo rinunciato a un guadagno e trasformato tutto in un prototipo i prototipi servono a fallire lo ha detto maria cristina lavazza in su articolo lo ripete alberto sa voi nel suo libro ma perché servono a fallire perché servono a imparare meglio servono a imparare meglio a capire quello che non ha funzionato quello che può essere lasciando aperto lasciando aperta la possibilità di cambiare nel mentre questo cosa cosa ha significato nel nostro nel nostro caso che è che un chiara io abbiamo fatto una una scelta abbastanza classica abbiamo diciamo abbiamo scelto di un guadagnato quindi abbiamo investito nei nostri amore come abbiamo chiesto ai nostri clienti la stessa cifra anche se appunto con incontri con incontri maggiori ma la stessa cifra che avremmo chiesto con degli incontri in presenza quindi per un servizio molto più ridotto in termini di tempo e abbiamo scelto di investire nella nostra presenza tutte e due all'inizio diceva sì una parte della fatiana una parte della fatiana e poi ci 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 ragguagliano insomma nel nel mentre in questo caso abbiamo fatto una scelta di sperimentarci tutte e due in presenza per poter capire se effettivamente questo poteva giovare in termini di ore no perché ha implicato il doppio delle ore di tutte e due quindi due persone insomma ferme per delle ore con con il lavoro però questo ci ha fatto capire che registrando per esempio gli interventi le sessioni di lavoro con i nostri clienti potremmo scegliere nel futuro di non essere presenti tutti e due ma l'altra può essere aggiornata riguardandosi magari la registrazione non tutta ma i punti focali che possono servirle per poi portare avanti la sua parte di lavoro perché comunque sono alcune parti si sovrappongono e una porta all'altra quindi abbiamo testato il prototipo dal punto di vista qualitativo misurare quanto ci costa non solamente le ore di front quindi nel lavoro effettivo con il cliente ma anche tutto il lavoro di back il confronto tra di noi il capire il passaggio successivo perché appunto non abbiamo un metodo preconfezionato per scelta perché se sappiamo benissimo da dove partiamo e il punto di arrivo dobbiamo lavorare in mezzo tenendo sempre ben chiara la direzione quindi il nostro obiettivo ma facendo ma lavorando strada facendo perché ci sono i blocchi esattamente come vengono in presenza ci sono dei momenti in cui va semplificata una parte si deve trovare indietro per riprogettare un altro pezzettino rifare un pezzettino testare e riconvogliare sono passati dieci minuti il risultato è comunque che ci è costato il doppio quindi non ci abbiamo guadagnato nulla anzi addirittura ci abbiamo perso ma questo perdere ci ha permesso di imparare di capire come possiamo migliorare nelle prossime volte perché ovviamente non guadagnare non facciamo attività di volontariato non dobbiamo mangiarci con il nostro lavoro quindi dobbiamo capire come punto fermo restando che il risultato del nostro cliente deve essere assolutamente dato dobbiamo sperimentarci migliorare noi alcune cose ve l'ho già dette ecco la questione del darsi il prezzo dare il prezzo servizio stiamo pensando e ragionando e prototipando l'idea di fare due forme di servizi una solamente online e una invece mezzo online e mezzo in presenza quando si può per poter anche insomma appunto guadagnarci perché insomma appunto non viviamo di sola di gloria ma questo perché io quello che vorrei far ripassare quello che chiarei io vogliamo far ripassare è che non dobbiamo pensare a dare il prezzo al nostro valore e togliere valore al nostro lavoro perché non ci stiamo guadagnando ma trasformare tutto il percorso anche di pricing quindi darsi un valore attraverso il prototiping e lo smettere di prototipare il nostro lavoro e il tutto il nostro processo perché il prototipo serve per non fallire dopo perché fallendo prima in un pezzettino piccolo possiamo possiamo evitare il fallimento futuro grazie grazie Tatiana mi fa piacere che si stia parlando di prototipare perché rientra nella discorso che facevamo anche stamattina dobbiamo pensare il futuro dobbiamo costruire il futuro ti ringrazio di nuovo grazie mille a voi vado a vedermi le domande se ci sono ciao 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 ciao